Oltre 8.000 studenti delle scuole dell'infanzia, 15.000 quelli degli elementari, oltre 10.000 iscritti alle medie inferiori e quasi 16.000 gli studenti che frequenteranno gli istituti superiori della nostra provincia. Sono i numeri dell'anno scolastico 2011-2012 al via domani ufficialmente tra incertezze e novità, tra cui spicca quest'anno l'insegnamento integrativo 4 ore complessive a settimana del dialetto siciliano. Una concessione all'autonomia siciliana che non si intravede però nelle risorse economiche con gli istituti dell'isola, compresi quelli blei, alle prese con il terzo anno di tagli del Ministero dell'Istruzione, che fanno intravedere un futuro nero per tutti, studenti, docenti e collaboratori scolastici. I precari in presidio permanente di fronte al provveditorato agli studi provinciale annunciano, dopo le magre risposte provenienti dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte, azioni di proteste eclatanti come la marcia su Roma con incatenamento di fronte al MIUR e un incontro con il prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro per illustrare la situazione. Un anno che oggi all'Istituto Fermi di Ragusa, ad esempio, ha visto i sorteggi per i primi anni e che inizia dunque all'insegna delle proteste e delle poremi che in vero già avviate dallo scorso primo settembre. Risorse economiche poche, prospettive anche per i docenti di sostegno al ribasso. Che anno sarà? Difficile per usare uno slogan da tempo ormai presente anche nel mondo dell'istruzione ibleo.